Sì, buongiorno a tutti. Ma io a questo punto una vera e propria relazione non avrebbe nemmeno senso perché finirei per ripetere sostanzialmente quanto detto dal sottosegretario Scalfarotto e già abbiamo sceperato tantissimi argomenti. Quindi se io entro a gamba tesa sugli argomenti tecnici per cercare in qualche modo di essere sintetico, ma al tempo stesso magari di rispondere ancora più ampiamente alle obiezioni e alle osservazioni finora svolte. Formazione degli elenchi degli italiani all'estero. Questo è un problema che si è posto da tanti anni e devo dire che sono stati fatti molti passi in avanti, credendoci e soprattutto facendo colloquiare sempre di più i comuni con i consolati. Quindi il Ministero dell'Interno, con il Ministero degli Esteri, i consolati con i comuni. Al di là delle... in modo scevero da gelosie amministrative di parte, abbiamo lottato per decenni per far colloquiare i comuni con i consolati. E devo dire con una certa soddisfazione che abbiamo ottenuto dei grandi progressi. Il sistema, provo a sintetizzarlo brevemente, credo che possa essere utile e interessante. Come voi sapete ci sono 70 giorni per fare le elezioni politiche da Costituzione. E noi però abbiamo quella clamorosa spada di Damocle del termine del sessantissimo giorno antecedente alla votazione per l'invio dell'elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero e al Ministero degli Esteri. Quante volte da parte politica ci è stato detto ma perché avete bisogno di 60 giorni? In realtà perché sull'elenco elettori all'estero non è un qualcosa che può essere cristallizzato ad una data, è un qualcosa che cambia continuamente. Si parla di milioni di posizioni e quindi di miliardi di informazioni. Quindi è una difficoltà enorme dal punto di vista tecnico e informatica. Detto questo noi procediamo ad un allineamento, prima del sessantesimo giorno antecedente, cioè prima talvolta paradossalmente di sapere qual è la data delle elezioni politiche o dei referendum, cosa che purtroppo per l'elenco elettori impatta perché nell'elenco elettori vanno solo i diciottenni e quindi diciottenni alla data della consultazione. Quindi è veramente terrificante come adempimento amministrativo, noi abbiamo i dati del Ministero dell'Interno con quelli degli schedari consolari. Che vuol dire l'allineamento dei dati? Vuol dire che in caso che vengono allineati informaticamente e che in caso di corrispondenza di nome, cognome e data di nascita viene assunto l'indirizzo risultante agli schedari consolari. Questo perché abbiamo dovuto convincere i comuni di questa cosa, ma d'accordo con i colleghi degli esteri nello scrivere il famoso DPR 104 del 2003 che è il regolamento di attuazione alla legge 459 perché si presume che i consolati abbiano delle informazioni più aggiornate, più recenti rispetto ai comuni. Non me ne vogliano i comuni italiani, però è una questione che sostanzialmente poi è riversata nel DPR 104 e ha portato di fatto tramite allineamento ad un aggiornamento costante degli indirizzi dei nostri residenti all'estero alla luce degli schedari consolari, indipendentemente da quello che risulta nell'aere dei nostri comuni. Detto questo, al sessantesimo giorno non è finita là, noi diamo un elenco provvisorio ai consolati. Perché si chiama provvisorio? Penso sempre da DPR 104. Perché a sua volta i consoli e i consolati devono lavorarci, devono verificare che quell'elenco di persone che sono inserite nell'elenco provvisorio, per caso a loro risultano esistenti. Può capitare che negli ultimi anni questa persona ha ricevuto più volte il plico e il plico è tornato indietro perché non ha avuto… In questo caso noi attribuiamo una facoltà ai consolati di fleggare questa posizione e cioè di surgelarla, scusatemi il termine, e non inviare il plico per tutte le persone che tendenzialmente loro ritengono essere in quel momento irreperibili all'estero. E questa è un'attività molto complessa e anche di grande responsabilità da parte dei consolati. che però noi come Ministero dell'Interno, pur avendo la barra del sistema, pur avendo la competenza in materia anagrafica, abbiamo voluto conferire, d'accordo con i colleghi degli esteri, ai consoli, perché obiettivamente hanno un quadro della situazione più aggiornato. Paradossalmente cosa avviene? Che ci sono delle persone che sono residenti all'estero ma che si spostano all'ultimo momento. Allora a quel punto, d'accordo con i colleghi degli esteri, facciamo fleggare quella posizione come consolato di Brema, in ipotesi, sappiamo che è andata ad Annofer e viene ammesso al volo, al voto ad Annofer. Proprio per attualizzare fino all'ultimo queste situazioni. Questo vale quindi per il sovrappiù, cioè coloro che risultano magari elettori ai comuni italiani, ma ai consoli non risultano in quel momento irreperibili. Per coloro che invece vengono omessi dall'elenco elettori c'è tutto un altro sistema, che magari risultano presenti al Ministero degli Esteri, ma non sono iscritti in Anagrafe, quindi per la legge italiana non avrebbero diritto. Cosa può succedere? Che vi sono decine di migliaia di persone che magari ancora hanno perfezionato la loro iscrizione, gli schedari consolari, ma che per un qualunque motivo non sono inseriti in elenco provvisorio. Bene, questi vengono ammessi al voto sempre tramite, ai sensi dell'articolo 17 del DPR 104, dai consoli tramite attestazione consolare, previa nulla osta comunale. Quindi c'è uno scambio di corrispondenza molto ampio. Fino all'ultimo noi praticamente abbiamo delle situazioni di flag di 100-150 mila persone e di ammissione al voto di altre 80 mila, 90 mila. Ecco questo grosso modo, questa seconda del tipo di consultazione. Quindi è un grosso movimento che tende ad aggiornare l'elenco elettori fino all'ultimo. È chiaro che se io non mi sono registrato, nessuno sa che sto lì, è difficile poter pretendere. Certo, in caso di opzione inversa sarebbe più semplice perché si fa domanda e magari si dichiara l'indirizzo, nemmeno la residenza, perché poi molti sono domiciliati magari in un posto diverso da quello di residenza, oppure semplicemente non ricevono il plico perché non stanno a casa in quei giorni. Però è chiaro che il voto per corrispondenza presuppone in qualche modo una presenza dell'elettore nella propria abitazione. Per quanto riguarda il doppio invia agli elettori e del certificato elettorale, io credo che i colleghi del Ministero degli Esteri non sarebbero molto d'accordo e tra l'altro mi segnalano che molto spesso i nostri connazionali all'estero fanno confusione. Quindi si ricevono più plichi, si agitano, chiedono ai consolati. Quindi questo può creare anche una certa disaffezione da parte degli elettori che potrebbero non capire questi doppi o tripli invi, oltre a costare ovviamente tantissimo. Per quanto riguarda gli errori microscopici nello scrutinio, io a volo uccello cerco di tappare un po' le falle. Sì, certamente uno scrutinio centralizzato in un'unica sede dell'Ufficio Centrale della Circoscrizione Estero crea oggettivamente confusione. Secondo noi si poteva anche già prevedere in passato, pur mantenendo le schede nel territorio romano della provincia di Roma più sedi che avrebbero evitato il trasbordo di milioni di schede in giro per il territorio nazionale. Però nella loro autonomia i presidenti degli uffici centrali per la Circoscrizione Estero non hanno mai voluto individuare più sedi per un discorso di controllo e di vigilanza. Adesso sono state individuate con decreto legge queste quattro sedi decentrate. Se proprio dobbiamo parlare di qualche criticità, io modestamente sollevo la problematica di smistamento di questi milioni di schede nelle quattro sedi, smistamento che deve essere fatto anche in tempi brevissimi e che può comportare degli errori, cioè quello che può andare a Bologna magari va a Milano e quindi deve essere in tempo velocissimo trasbordato nella sede competente. Aggiungo per esperienza che come al solito c'è sempre qualche problema sul piano voli, i colleghi degli esteri sono bravissimi ma non possono certamente controllare tutti i voli mondiali, c'è il Covid, ci sono gli scioperi, ci sono le emergenze. Quindi lo spacchettamento va bene ma c'è questa criticità, non è la panacea di tutti i mali. Speriamo di evitare problematiche, sappiate però che la diffusione dei risultati provvisori potrebbe avere una maggiore lentezza perché lo spacchettamento comporta questo. Certamente potrebbe esserci un maggior ordine e non ci potrebbe essere quella confusione di plichi però c'è il problema logistico che le quattro corti di appello non hanno per nulla esperienza di organizzazione di queste cose, quindi vanno informate, vanno formate e devono trovare i locali e non è facile. Tra l'altro adesso ormai gli eventi si organizzano in un anno di anticipo in Italia e quindi farlo in 45 giorni era probabilmente impossibile, questa è una cosa che è stata da noi segnalata, era impossibile farlo per il referendum, proprio per il reperimento pratico magari di locali idonei per l'utilizzo di seggi. Però al di là di queste criticità che comunque segnalo per completezza, ove mai si riuscisse a mettere in rete questo smarcaggio tipo supermercato del QR code che registra quindi il votante automaticamente, si potrebbe sicuramente semplificare l'attività di preliminari allo scrutinio che devono svolgere i seggi della circoscrizione estero. Quindi se si semplifica molto quell'aspetto poi avrebbero più tempo e più energie anche da dedicare allo scrutinio. Però tutte le varie corti d'appello dovrebbero organizzare tramite il Ministero della Giustizia, credo con dei fondi in più da stanziare, dovrebbero organizzare queste postazioni elettroniche tipo supermercato che smarcano. Noi gli possiamo fornire elenco elettori elettronicamente, ma questi macchinari devono essere ovviamente in rete fra di loro perché se viene smarcato un QR code di una persona l'altro seggio magari competente per Buenos Aires parte perché ovviamente non ci sono seggi per i consolari più ampi sono competenti 50-60 seggi ovviamente e quindi l'altro seggio se è stato smarcato quell'elettore dal seggio numero 3 non può essere più smarcato lo stesso QR code dal seggio numero 4. Per quanto riguarda il voto postale è una scelta del legislatore, quindi non posso che rimettermi alla scelta politica. Noi non abbiamo obiezioni assolutamente anche dal punto di vista tecnico sul discorso dell'inversione dell'opzione, però è molto probabile che nel momento in cui si chiede una domanda si chiede una domanda formale per poter votare per la circoscrizione estero gli elettori calerebbero moltissimo. Aggiungo che ovviamente il fatto di non fare questa domanda non potrebbe costituzionalmente privare del diritto al voto questi elettori residenti all'estero e quindi dovrebbero essere, ove si inserisse l'opzione inversa, dovrebbero però essere poi comunicati a noi per l'inserimento nelle liste elettorali in Italia perché se io non faccio domanda per votare per posta, poi però non posso essere privato costituzionalmente del voto e quindi dovrebbe rientrare negli elettori delle circoscrizioni del territorio nazionale. È vero che non tornano in molti, ma chi sta in Svizzera, in Francia, prende il treno, potrebbe tranquillamente tornare. Ho visto, aggiungo molto brevemente, nelle varie considerazioni che ha fatto l'aggiunta delle elezioni sulla precedente esperienza della circoscrizione estero, dei suggerimenti anche molto utili anche sui clicchi, sulle buste che vanno consolidate, quindi noi ovviamente terremo conto di quanto abbiamo letto. Per quanto riguarda il voto, come ha detto il sottosegretario Scalfarotto, il voto per garantire la più assoluta segretezza, personalità, uguaglianza del voto, l'unica soluzione è la cabina in cui si entra previa identificazione. Quindi qualunque altra forma di voto ha dei rischi. In Italia, all'estero, anche per il tipo di garanzia, che sappiamo il seggio, chi è il personale che prevede la seggio? Cioè, sarebbe esattamente garantito, se è tolto il consulato, non è basciato. È sufficiente. Se dovessimo fare degli uffici ad hoc, in giro per il mondo, come seggio e l'autorario, quel personale che garantisce il consulato in Italia, non è prevede. Accetto. Anche perché non tutti gli stati esteri hanno il nostro stesso background. Noi lottiamo perennemente contro il doppio voto. Noi non accettiamo il doppio voto. Ci sono degli stati esteri che in passato hanno ampliato in maniera esponenziale le modalità di voto, non controllando il doppio o triplo voto. Quindi non facciamo nomi, ma noi sappiamo per certo che è così. Quindi dobbiamo considerare questo. Cioè, tutto questo sistema di elenco elettori all'estero, vengono poi cancellati dalle liste elettorali sezionali dei nostri comuni. Perché una persona non può votare più volte. Teoricamente può sembrare complesso, ma chi vota per posta all'estero 20 giorni prima potrebbe in teoria tornare in Italia e esercitare il diritto di voto. Quindi noi facciamo tutta un'attività d'accordo con i consolati, con i comuni, proprio per aggiornare costantemente le liste elettorali ed evitare il doppio voto. Questo ci tengo a dirlo. Io per ora avrei concluso, aggiungerei certo tra le varie vostre perplessità. Era il discorso del mercoledì, antecedente la data presso i consolati. la possibilità appunto di anticipare di un giorno il termine per l'arrivo presso i consolati della scheda, del picco con le schede. Consideriamo per carità una valutazione anche politica. dal punto di vista tecnico non posso che dire che più anticipo quel termine più c'è il rischio che debba incenerire più schede. Se il sistema finora sostanzialmente ha funzionato col giovedì e quindi il martedì è sicuramente troppo anticipato. Come ha detto il sottosegretario Scalfarotto, il procedimento elettorale delle politiche è estremamente compresso. Quindi un giorno è fondamentale. Noi abbiamo un solo giorno per fare le schede elettorali e i manifesti, perché dentro il plico ci va anche il manifesto con le liste elettorali, perché se no l'elettore non sa cosa votare, non sa a chi poter dare la preferenza. Il fatto dello spacchettamento aiuta anche a risolvere il problema del personale dei comuni limitrofi che era stato segnalato da questa giunta alla luce delle difficoltà tecniche che c'erano state a Castelnuovo di Porto, c'erano stati pure dei blocchi stradali, un allagamento addirittura, quindi questo aveva contribuito a una... Sì, 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 sì. Attivo che fa rente lo... E prima... Onore Siragusa, prego. Sì, grazie, non la sentivo più. Grazie. Io volevo solo un attimo chiarire che io non intendevo parlare di doppio invio, che sarebbe assurdo, ma più che altro di rendere il plico elettorale di per sé inutilizzabile senza che l'elettore faccia un'operazione che può essere appunto... Ci può essere un QR code dato all'utente in maniera difforme, può essere un libretto elettorale dato all'iscrizione all'aeree. Cioè, il principio è quello di rendere il plico... Se io rubo il plico di una persona non posso votare al pusto su. Questo è il principio. Poi le modalità tecniche... È ovvio che sarebbe assurdo un doppio invio. Volevo solo chiedere questo. E poi, lei ovviamente nel suo intervento penso che abbia reso molto bene l'idea della fatica delle operazioni per preparare il voto dell'italiano all'estero. E non è una fatica che viene fatta una volta ogni cinque anni. Perché se guardiamo questi ultimi anni, abbiamo avuto le elezioni politiche 2018, il referendum costituzionale, quest'anno avremo un altro referendum costituzionale, l'anno scorso abbiamo avuto le elezioni del Comitess, quindi anche quello è andato a contribuire a pesare sul lavoro dei consolati. Ci saranno le elezioni politiche del 2023. Quindi è un'operazione che probabilmente deve essere fatta più volte in cinque anni, sostanzialmente. E allora io le faccio semplicemente una domanda. Gli italiani all'estero, appunto, anche per via di una legge sulla cittadinanza molto generosa, praticamente la comunità dell'italiano all'estero sarà sempre in aumento. Perché ci saranno ai discendenti del 1800, si aggiungono i discendenti della nuova emigrazione, a cui si aggiungono i cittadini stranieri diventati in Italia che sono emigrati e magari sono tornati nel loro paese, si aggiungono i loro discendenti, si aggiungono i coniugi. Quindi la comunità degli italiani all'estero aumenterà sempre. Quindi si è passati da due milioni a cinque milioni. Io le chiedo semplicemente, le faccio una domanda. Se questo sistema, senza emersione dell'opzione di voto, quindi inviare i plichi elettorali a milioni di indirizzi che se i cittadini non aggiornano non sono verificati, se è scalabile e se è sostenibile nel caso che la comunità italiana arrivi a dieci milioni, quindici milioni. Quindi se a livello di prospettiva futura, prevedendo un aumento della cittadinanza degli italiani all'estero, se questo sistema è sostenibile economicamente, organizzativamente parlando, se non si introduce l'inversione dell'opzione di l'inversa. Che vorrei dire, anche qui, un conto è il principio. Un conto sono le modalità con cui si applica. Nel senso che nulla vieta al Parlamento di decidere che una volta che un elettore si iscrive, rimane iscritto finché continua a esercitare il proprio diritto di voto. Se dopo dieci anni che il paese, l'Italia, invia il plico e l'elettore non vota, allora si disiscrive dal registro degli elettori e torna a votare in Italia. Quindi questa è una soluzione, tra l'altro, proposta anche da uno degli auditi, da un professore audito nelle scorse settimane. Quindi ecco, volevo solo farle questa domanda. Se secondo lei è sostenibile qualora la comunità degli italiani all'estero dovesse arrivare a dieci milioni, quindici milioni? Che non è così folle. L'onorevole Siragusa, se posso Presidente? Prego, l'onorevole Fontana. L'onorevole Fontana, poi vuole farla subito la domanda o aspettiamo? Perché così poi rispondiamo sempre. È semplice la mia domanda, anche perché nasce da una sollecitazione che ha fatto l'onorevole Siragusa, che secondo me ha accolto nel pieno una delle questioni che si sono anche rilevate dalle analisi e dalla valutazione dei ricorsi che sono stati fatti negli anni dalle giunte di Camera e Senato. E cioè quello della personalità del voto, della garanzia della personalità del voto. Ed è un qualcosa che io auspico che possa essere valutata la questione dell'opzione diversa, ma comunque anche stando questo sistema se ci fosse un meccanismo che consentisse alla persona e quindi non è una doppia spedizione ma è la possibilità di ricavare il famoso codice che viene inserito e oggi viene spedito insieme alla busta della scheda se l'elettore lo potesse ricavare direttamente da sé con, facciamo l'esempio, lo speed e a quel punto noi avremo la certezza che anche meccanismi di gestione del consenso, di associazioni più o meno lecite che hanno gestito, come abbiamo letto, dei ricorsi in consenso in queste situazioni estreme che abbiamo visto, bene, con questo si stroncherebbe alla radice pur mantenendo questo sistema. Quindi questo può essere anche messo in relazione al lavoro che il Ministero dell'Interno sta facendo sulla digitalizzazione della tessera elettorale. Quindi questo potrebbe essere un campo dove si potrebbe sperimentare in un tempo breve questo meccanismo proprio perché questo garantirebbe la personalità del voto. Cioè io posso votare con la scheda che riceverò al mio indirizzo più o meno giusto, ma solo se sono io e solo se ricavo direttamente io quel tagliando in maniera univoca con le credenziali che ho solo io stesso. Sì, io volevo rispondere io all'onorevole Siragusa sulla domanda ipotetica. Io le dico la verità, onorevole, sono un po' restivo a rispondere a domande che si riferiscono a ipotesi di cui non conosciamo l'effettiva, reale, potenziale, futura realizzabilità che si realizzino effettivamente oppure no. Quello che posso dire e che devo dire è che il Ministero dell'Interno è tenuto a rispettare la legge quindi fin tanto che la legge è questa il Ministero dovrà applicare questa legge e qualsiasi sia il numero degli elettori noi abbiamo assistito a un notevole aumento come ho detto prima dall'inizio i numeri sono aumentati e naturalmente il Ministero dell'Interno come sempre non è venuto meno alle sue responsabilità. Io confermo che noi qualsiasi sia lo scenario dovremo essere all'altezza di quello che la legge ci chiede di fare eventualmente il Ministero dovrà fornirsi di maggiori risorse e maggiori capacità operative e ovviamente si rivolgerà alla politica per averle però ripeto secondo me la scelta di applicare un'opzione inversa non può basarsi sul fatto che io le dica oggi che tra dieci anni noi non ce la faremo più se il Parlamento ritiene di approvare questa ipotesi come ho già detto da un lato otterrà sicuramente una maggiore semplificazione e snellimento del processo che non possiamo che guardare con simpatia ma mi corre l'obbligo di sottolineare come ha detto poi anche il Prefetto Rano che nel momento in cui l'onere appunto di esercitare l'opzione venisse invertito naturalmente questo darebbe luogo da un lato a una potenziale severa riduzione della partecipazione di cui ovviamente dovremmo tener conto e anche io ringrazio il Prefetto Rano per averlo aver completato il concetto certo non si può privare del voto chi non esercita l'opzione quindi bisognerebbe dare a chi non esercita l'opzione un'ulteriore possibilità di votare e anche quello comporterebbe un aggravamento quindi andremo a semplificare un processo ma sicuramente ne avremo ad aggravare un altro certo non so già che ci stiamo volevo buttare là una piccola riflessione sul discorso dell'opzione inversa sempre in un'ottica di assoluta garanzia della regolarità del voto è da valutare non è una posizione assolutamente contraria a questo aspetto però lascio la valutazione l'idea che il voto nella circozessione estero possa essere subordinato ad una espressa dichiarazione di volontà potrebbe in qualche modo agevolare chi volesse convogliare determinato consenso nei propri confronti e così tramite associazioni eccetera eccetera facesse la stessa associazione la stessa domanda agevolando l'elettore agevolando l'elettore e poi si precostituisse un pacchetto di voti poi da poter in qualche modo gestire scusate è una riflessione fuori dai denti però è da valutare anche questo cioè una piccola complicazione burocratica che potrebbe essere utilizzata da ne approfitto però perché vorrei su questo tornare problema costituzionale certamente c'è e andrebbe quindi semmai risolto io non faccio domanda posso votare però abbiamo abbiamo un tema quindi diciamo nelle audizioni che sono state fatte ci riferiamo soprattutto alla parte dei professori accademici eccetera eccetera quello dell'inversione è stata oggettivamente individuata come la soluzione più semplice rispetto al voto elettronico che è impraticabile diciamo per usare una e il voto in presenza all'estero che è pertanto impraticabile perché nasce questo tema perché è giustissimo quello che lei evidenzia però diciamo la giunta non ha più potuto e noi siamo contenti di queste audizioni perché diciamo è emerso qualcosa che tutti sapevamo e che forse non eravamo riusciti a mettere in modo così evidente è che quello che in qualche modo però va garantito o interrotto è il fatto che la grande partecipazione la più o meno grande partecipazione non totalmente ma in talune occasioni in modo consistente è palesemente una votazione nella quale votano persone che non sanno di aver votato quindi adesso l'inversione possiamo pure archiviarla il problema è che però secondo me noi dovremmo trovare lo dico parlando ai colleghi soprattutto più ma chiaramente poi ci dovrà essere anche l'opinione del governo se dovessimo arrivare a qualche soluzione legislativa che non competa questa commissione però che competa le forze politiche insomma una volta che noi abbiamo scoperchiato e messo in evidenza tutta questa vicenda non è che possiamo pensare che andiamo alle prossime elezioni politiche facendo finta di niente e sapendo che per non arrivare a una problematicità come quella che lei giustamente metteva in evidenza anche con la possibilità di aspetti costituzionali però facciamo finta di non vedere che poi c'è intaccato in modo consistente tutto il resto quindi il problema è capire tutti insieme tolto il voto elettronico perché comunque non è procedibile con le prossime elezioni tolto il tema di organizzare seggi elettorali all'estero perché comunque diciamo non saremo nelle condizioni ecco non possiamo dare per scontato che rimane tutto cos'è perché ormai siamo perfettamente consapevoli che com'è non va bene quindi probabilmente lo sforzo che dobbiamo fare è capire non so se i colleghi sono d'accordo qual è qualcosa che però assolutamente bisogna fare per perché abbiamo di fronte una realtà della quale non possiamo far finta che non ci sia io se non ci sono onore Siracusa sì vorrei dire che appunto io l'unica altra via principale che vedo è quella di rendere il voto personale quindi garantire che il plico elettorale di per sé sia inutilizzabile a meno che non ci sia una identificazione dell'elettore con un procedimento diverso che non può essere quello di inviare un tagliandino nel plico elettorale che si invia l'elettore quindi secondo me questo deve essere il primo obiettivo cioè rendere il plico inutilizzabile a chiunque lo trova per strada lo ruba lo compra questo qui su questo secondo voi c'è una strada percorribile lo dico lo chiedo a lei prefetto anzi le faccio una domanda ancora più complicata c'è una strada percorribile a legislazione invariata oppure comunque bisognerebbe immaginare una modifica legislativa non è una problematica facile da risolvere perché io se mando un QR code e il QR code viene preso da un'altra persona cioè il QR code mi agevola nella tracciabilità del percorso postale però è difficile si parla anche di firmare in parte che anche la firma in teoria può essere falsificata non può essere firmata la scheda se no il voto diventa riconoscibile insomma è un discorso un po' complicato conciliare il voto per corrispondenza con l'assoluta certezza che quella scheda è votata esattamente da quella persona obiettivamente va bene direi che a questo punto possiamo ringraziare il sottosegretario Scalfarotto e anche il prefetto Orano per la loro interessante comunicazione